questo video è offerto da cosa serve a questa Roma per confermarsi anche in Europa? ma io penso che, vedendo la stagione, penso che non so, però l'ultimo ragione era come da un giugno tutto l'anno e da partire i mari sono state sbagliate e non mi sbagliate io penso che questa squadra è già così, è abbastanza complicata ma poi la società è assoluta no, già pensi al mondiale? perché che non ci penso? io ci spero, poi le scelte li farà il mister però comunque sto dimostrando di meritarmi ragione, ma questa squadra crede ancora nello scudetto? perché non sembrava una squadra sazia per aver raggiunto l'obiettivo secondo posto no, vabbè, noi facciamo il nostro poi se è vincito meglio possiamo dire che il mare è fatta perché poi sono 8 punti in 3 giornate è diventato molto difficile però al di là dello scudetto io penso che la Roma ha fatto un'ottima stagione l'universo è stato magari la migliore poi l'anno prossimo se ti conduce da zero e adesso il mare è tutto da me grazie